Una partita strana, per così dire, spenta, giocata da voi, decisa da due vostri errori. Quanto rammarico c'è di perdere una partita del genere per due errori banali, comunque? Molto, perché eravamo nettamente superiori, ma ci è mancata brillantezza, non si è riuscita a fare il nostro gioco per due errori banali, abbiamo preso due gol che ci hanno compromesso la partita. Un inizio non esaltante per la Colombara, si sperava di più, insomma, due punti nelle prime tre partite, forse qualche punto di troppo già perso per questo inizio di campionato. Sì, questo sì, siamo partiti un po' sotto tono, ma non siamo preoccupati, quindi dobbiamo recuperare bene condizione fisica, recuperare la condizione, poi i risultati arriveranno. Una volta recuperata la condizione fisica, cosa può ambire questa Colombara quest'anno? Per il momento mantenere la categoria, poi si vedrà. Perfetto, grazie mille.